Buongiorno e di nuovo buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con il TG News 24 edizione delle 12. Diamo subito un aggiornamento sulla situazione del traffico che riguarda l'autostrada. Eccola qui, la A4, ci sono delle code sul tratto tra Palmanova ed il Bivio, tra la A23 e la A4, a causa di lavori in corso, la situazione in via di normalizzazione. Andiamo a vedere anche un'immagine che arriva in tempo reale, due minuti fa, la sequenza che vi riportiamo e che potete trovare anche sul sito di Autovie Venete, infoviaggiando.it. Ci mostra una situazione in questo momento tranquilla, ci sono lavori in corso per realizzare i vari allacciamenti dei tratti interessati dai lavori per la terza corsia in direzione Torino. La careggiata è ridotta a due corsia, causa di lavori in corso tra Palmanova e San Giorgio di Nogare. Questo causa di tanto in tanto delle problematiche di traffico che però fortunatamente poi si risolvono in tempi brevi. E dunque questo ragionamento arriva da Autovie Venete, ne troviamo un altro di traffico sull'altra parte della A4, verso San Giorgio di Nogaro, con code in questo caso in uscita a San Giorgio di Nogaro. Perché le code in uscita? Perché oggi, proprio a causa dei lavori in corso, bisogna effettuare delle deviazioni e quindi prendere strade itinerari alternativi per poi ricongiungersi con la A23 oppure con la A4 più avanti rispetto al punto in cui sono in corso i lavori e sono state effettuate le chiusure o i restringimenti di carreggiata per consentire gli allacciamenti di cui parlavamo poco fa. Adesso parliamo invece di altro, andiamo sul sito dell'agenzia ANSA per vedere quali sono le ultime notizie pubblicate dall'ANSA. Intanto c'è una notizia di cronaca, in ultima ora spari in strada vicino a Roma, colpiti due bimbi e un anziano. Una notizia che è arrivata un paio di minuti fa e che l'ANSA riporta nelle sue flash in alto sotto la testata. Vi daremo qualche aggiornamento, se ci sarà qualcosa da approfondire e da aggiornare nel corso del telegiornale su questa notizia. Ma intanto invece vediamo che cosa pubblica in apertura. L'agenzia via all'ultimo giorno del G7, impegni rigorosi sul clima, si è registrato poi l'intervento della Cina. Come sapete si cerca una alternativa, ne abbiamo già parlato, alla cosiddetta via della seta. La Cina risponde, un piccolo gruppo, riferendosi al G7, non può decidere le sorti del mondo. Il piccolo gruppo è quello che compone il G7, che si è riunito in Cornovaglia ed è ancora in corso il meeting. La Cina ha affermato che sono finiti i tempi quando un piccolo gruppo di paesi poteva decidere i destini del mondo. I giorni quando le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di paesi. Sono finiti da molto, è quanto ha affermato un portavoce dell'ambasciata cinese a Londra, citato sul sito della Reuters. Noi crediamo che i paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, poveri o ricchi, siano tutti uguali e che gli affari del mondo devono essere gestiti attraverso la consultazione tra paesi, ha aggiunto il portavoce. Adesso parliamo della situazione vaccini nel nostro paese, dopo la decisione di non vaccinare gli under 60 con AstraZeneca, che si tratti di prima dose oppure di richiamo e dunque di far ricorso ad altri vaccini anche per la seconda dose di chi ha ricevuto già AstraZeneca, nel caso specifico vaccini Pfizer e Moderna, potrebbe mettere in crisi il piano vaccinale. Il governo rassicura perché non ci saranno rallentamenti nella campagna dopo lo stop all'uso di AstraZeneca. Lo rivelano fonti di Palazzo Chigi che fanno sapere che sono in arrivo 55 milioni di dosi di Pfizer e Moderna che serviranno, fra l'altro, quale seconda dose per gli under 60 che hanno avuto una prima dose del vaccino anglo-svedese, circa 900 mila persone. Intanto le regioni cancellano gli open day che andranno riorganizzati, rispettando le indicazioni per fasce d'età. Anche in Lombardia che in un primo momento si era detta decisa a disobbedire ai dettami del CTS. Figliuolo, teme rallentamenti e se gli over 60 che ancora non l'hanno fatto non risponderanno all'appello, milioni di dosi di AstraZeneca e Johnson & Johnson rischiano di scadere nei frigoriferi. E con Valentina Bearsi facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la nostra regione. Cosa succederà ai nostri corregionali che hanno già ricevuto la prima dose con AstraZeneca e attendono di ricevere la seconda a questo punto con un altro vaccino? Sentiamo. Quasi 26 milioni di italiani devono ancora avere la prima dose di vaccino e altri 13 milioni e mezzo che devono fare il richiamo. 900 mila dei quali hanno avuto la prima dose con AstraZeneca e ora faranno la seconda con Pfizer e Moderna. In Friuli Venezia Giulia sono più di 8 mila le persone che riceveranno un vaccino diverso. Non ci sono timori, ci ha spiegato il direttore della clinica delle malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, che anche per l'influenza il vaccino può essere diverso ogni anno e cambia anche produttore. Non bisogna avere sospetti di sorta e vaccinarsi senza remore. Dopo la circolare del Ministero della Salute che dà indicazioni perentorie sull'utilizzo del siero dell'azienda anglo-svedese solo sugli over 60, rischia di rallentare però la campagna di vaccinazione di massa con il conseguente slittamento dell'immunità di gregge. La campagna vaccinale italiana procederà con la stessa intensità di prima, conferma invece il Governo, vista l'ampia disponibilità di oltre 55 milioni di dosi Pfizer e Moderna tra ora e la fine del terzo trimestre. L'Italia però rischia di trovarsi nei frigoriferi milioni di dosi di AstraZeneca e Johnson & Johnson inutilizzabili. Molte regioni hanno già cancellato gli Open Day che verranno riorganizzati secondo fasce di età. In Friuli, Venezia Giulia e Veneto il problema non si pone perché i vaccini non a mRNA venivano già somministrati alle persone over 60. Diverso il discorso per chi è stato vaccinato tra le categorie prioritarie come operatori scolastici, insegnanti, vigili del fuoco, protezione civile e militari. In questo caso molti giovani e giovanissimi hanno già ricevuto il vaccino AstraZeneca anche per il richiamo. Sempre secondo il dottor Tascini si può stare tranquilli. I rarissimi casi avversi avvengono tra i 5 e i 10 giorni dopo il vaccino fino ad un massimo di 28 giorni. Prima di tornare a parlare di vaccini ma questa volta nella pagina del turismo con una serie di servizi e notizie che riguarderanno l'organizzazione turistica delle nostre località soprattutto località balneari ma anche quello che si può e non si può fare quando ci si sposta a quello che si deve fare quando ci si sposta dall'Italia verso l'estero e in particolare le nazioni confinanti, Slovenia e Austria. Adesso cambiamo argomento e parliamo del caso Eriksen che ieri ha sconvolto il mondo del calcio. Fortunatamente il calciatore della Danimarca adesso pur essendo ancora ricoverato in ospedale è sotto controllo ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. si è accasciato ieri sul campo al 43esimo minuto a causa di un arresto cardiaco. Abbiamo contattato il professor Fiorenzo Gaeta, cardiologo di Torino, docente dell'Università di Torino presso l'ospedale delle Molinette del capoluogo piemontese. Il professor Gaeta ha curato, ha trattato anche con un intervento di cardiochirurgia che dire agli Steineri che avevano avuto problemi di aritmia. Proprio l'aritmia potrebbe essere alla base del malore accusato ieri da Eriksen. Sentiamo il professor Fiorenzo Gaeta. Casi come questi possono capitare anche a persone che hanno un cuore perfettamente sano oppure tutto questo nasconde una patologia che non è mai venuta a galla? Più spesso nasconde una patologia che non è mai venuta a galla. In realtà ci sono anche delle patologie che vengono scoperte di volta in volta. Che cosa può essere successo? La cosa più comune è un'aritmia che facendo battere il cuore eccessivamente veloce in realtà poi lo ferma. Quindi non arriva sangue al cervello e si sviene. Ma quel che sappiamo per certo è che i professionisti vengono controllati in maniera, vengono rivoltati come calzini, come si suol dire. E dunque quando succede questo vuol dire che c'è l'imponderabile. Lei ha centrato il problema. Il problema è questo. Con lo screening che si fa, e come lei ha accennato, lo screening è importantissimo. Vengono sottoposti a tutte le analisi possibili. Qualche cosa può non essere scoperta. Anche perché può essere cambiato la situazione dell'atleta da quanto ha fatto lo screening a quanto invece succede l'evento. Porto un semplice esempio. Anche un'infezione da Covid misconosciuta può dare micro cicatrici al cuore che poi possono evolvere durante un'attività fisica importante, uno stress psicologico importante, qual è una partita di calcio, in aritmie che possono dare morte. Con il professor Gaeta abbiamo poi affrontato anche altri temi. Vi invito a seguire i nostri notiziari nel pomeriggio e questa sera perché avremo altri passaggi della lunga intervista che ha rilasciato questa mattina a Udinese TV. In particolare interessante il discorso Covid perché anche il Covid può lasciare delle conseguenze e provocare una miocardite che poi può essere a sua volta alla base di una aritmia tipo quella che è capitata ad Ericsson ieri in campo a Copenaghen nella gara fra Danimarca e Finlandia. Adesso invece apriamo la pagina dedicata al turismo e cominciamo intanto con una buona notizia che riguarda i turisti che decidono di trascorrere qualche giorno di vacanza a Lignano perché il 22 e il 23 giugno circa mille turisti potranno ricevere la prima o la seconda dose di vaccino a Lignano-Sabbiador nella palestra comunale dove viene allestito un nuovo hub. Lo ha annunciato il vicepresidente con delega della salute Riccardo Riccardi. Non ci si ferma a Lignano, ha annunciato Riccardi. Avvieremo la campagna vaccinale anche a grado e sempre con un occhio di riguardo alle realtà turistiche a Tarvisio con soluzioni mirate anche ad altre località della montagna friulana. Adesso invece parliamo di chi dall'Italia ha intenzione di spostarsi per andare per esempio in Austria oppure in Slovenia a trascorrere qualche giorno di vacanza. Ce ne parla Valentina Bearzi nel suo servizio. State e tempo di vacanze. Sono in molti i corregionali che pensano di passare qualche giorno di relax oltre confine in Austria, Slovenia o Croazia pensando si possa già utilizzare il Green Pass. Ma quali regole bisogna invece rispettare per poter uscire e rientrare dai confini senza effettuare quarantene? Non è facile districarsi perché le norme variano da paese a paese e al momento le misure vigenti valgono solo fino al 30 giugno. Cominciamo con l'Austria. Intanto bisogna possedere un certificato o un test in lingua inglese o tedesca attestante la negatività al Covid-19. Deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso in caso di test molecolare o 48 per il rapido. In ogni caso si può anche effettuare il test all'arrivo ma va da sé che bisogna stare in isolamento fino al risultato. L'altra opzione è esibire un certificato sempre in inglese o tedesco che attesti la guarigione negli ultimi sei mesi. Infine si può avere un certificato di vaccinazione. Basta aver ricevuto la prima dose in un tempo che va dai 21 giorni ai nove mesi precedenti l'ingresso nel paese. In Slovenia le norme sono più stringenti e anche complicate dalle diverse tipologie di vaccino esistenti. In generale rimane l'obbligo di quarantena per 10 giorni a meno di non presentare un test classico, rapido o negativo o non più vecchio di 48 ore. Il test positivo invece deve essere anteriore di almeno 21 giorni ma non più vecchio di sei mesi. Anche il certificato di guarigione firmato da un medico deve essere non più vecchio di sei mesi. Per il certificato di vaccinazione basta la prima dose ma deve essere stata somministrata in un periodo precedente all'ingresso che varia da vaccino a vaccino. E il ministero chiarisce in italiano sul suo sito tutte le info utili. Infine la Croazia. Anche qui le norme valgono fino al 30 giugno. Sempre valida l'opzione tampone 72 ore prima per il molecolare e 48 per il rapido. Bisogna invece aver ricevuto in tutte e due le dosi di vaccino per stare tranquilli. In alternativa si può avere la prima dose ma somministrata dal 22esimo fino al 42esimo giorno della somministrazione per i vaccini a mRNA oppure dal 22esimo all'84esimo giorno della somministrazione della prima dose di AstraZeneca. Il certificato di guarigione non deve essere antecedente i tre mesi dall'ingresso. Diverso il discorso per il rientro in Italia che diventa un po' più spinoso da tutti e tre i paesi. Fino al 30 luglio la normativa del Ministero della Salute prevede o la presentazione del Green Pass strumento che però al momento non è ancora delineato oppure una delle seguenti opzioni un certificato che attesti l'effettuazione di un test molecolare o antigenico realizzato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia condotto con tampone e risultato negativo oppure si può ricorrere al caro e vecchio isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni. al termine del quale bisognerà comunque fare un tampone negativo. E sull'importanza del turismo per il nostro paese ai fini di una ripartenza anche dell'economia si è espresso il Ministro Garavaglia in visita ad alcune località turistiche del Piemonte. Sentiamo. Abbiamo fatto un bel giro in Piemonte Novara, Alessandria, Alba adesso Torino regione con enormi potenzialità turistiche e fortunatamente e quindi si è ragionato appunto su questa ripartenza che si inizia già a vedere a Alba si sentivano già un po' di voci di stranieri insomma le regole che hanno riaperto consentono di far ritornare i turisti. Di aprire il prima possibile l'unico modo per far ripartire questo paese è fatturare. Che estate sarà? Un'estate molto più serena di quella dello scorso anno sapevamo già perché l'esperienza storica dell'anno scorso ci diceva che con la bella stagione il virus fortunatamente fa marci indietro ma abbiamo due grosse novità rispetto allo scorso anno i vaccini per cui si riparte e non ci fermiamo più e poi ritornano i turisti stranieri pian pianino torniamo alla normalità bel Piemonte poi da milanese lo conosco particolarmente bene perché ci vado avanti e indietro andando al mare in Liguria in moto possibilmente ho una figlia che va all'università a Novara insomma conosciamo abbastanza bene tutto domani alle 17 in diretta streaming dalla sala magna del complesso monumentale dello Steri il rettore dell'università di Palermo Fabrizio Micari conferirà l'onorificenza di bene merito alla memoria a Giulio Reggeni il ricercatore sequestrato e ucciso in Egitto dopo i saluti del rettore interverranno Aldo Schiavello direttore del dipartimento di giurisprudenza Paola Caridi docente di History of International Relations laurea magistrale in cooperazione sviluppo e migrazioni la famiglia Reggeni con l'avvocato Alessandra Ballerini la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook Uni Palermo e adesso apriamo la pagina sportiva lo facciamo con gli europei andiamo a vedere le grafiche con risultati classifiche e partite di quest'oggi dei gironi interessati venerdì 11 si è aperta la rassegna europea con la partita dell'Italia ieri sempre per il gruppo dell'Italia sono scese in campo Galles e Svizzera dopo Italia e Turchia ed è finita 1 a 1 per il gruppo B la Finlandia ha battuto la Danimarca per 1 a 0 mentre il Belgio ha superato la Russia 3 a 0 la situazione di questi due gironi vede per quanto riguarda il gruppo A l'Italia in testa era sola con tre punti Galles e Svizzera 1 a testa la Turchia ferma a 0 nel gruppo B a tre punti ci sono le due squadre che ieri hanno vinto la Finlandia e il Belgio ferme a 0 ovviamente quelle che hanno perso le partite di oggi si comincia alle 15 con il gruppo D gara tra Inghilterra e Croazia a Londra alle 18 si va a Bucharest per Austria Macedonia per il gruppo C e ancora per il gruppo C Olanda-Ucraina alle 21 in Olanda ad Amsterdam questa è la situazione europea alle 14.45 io vi invito a seguire il programma condotto e curato dall'Onora Nocent che fa il punto quotidianamente Eurofocus ogni giorno alle 14.45 il punto sui campionati europei 2020 anche se siamo 2021 il nome è rimasto quello della data originaria 2020 furono rinviati l'anno scorso a causa dell'emergenza Covid adesso parliamo di basket l'Apple World West quest'oggi affronta gara 4 della semifinale per la promozione in serie A1 si affronta Scafati ancora in trasferta e dunque dopo aver fallito il primo match point c'è ancora una possibilità di chiudere la serie qui e pensare poi alla finale nuova nuova chance a disposizione per l'App Udine per guadagnarsi la finale promozione in serie A che vede già qualificata la GV Napoli questa sera Scafati si gioca gara 4 con i bianconeri ancora in vantaggio nella serie nonostante la pesante sconfitta di venerdì in gara 3 un match che ha presentato risvolti completamente diversi rispetto ai primi due giocati al Carnera se in Friuli la squadra di Boniccioli era riuscita a strappare due vittorie con grande combattività e con la forza del collettivo sul parquet di Campani l'inerzia si è invertita con Scafati brava a mettere il risultato in cassaforte già all'inizio della ripresa costringendo Udine a sparare a salve da 3 e a faticare moltissimo nella lotta sotto i tabelloni i playoff hanno però il potere di resettare tutto da una partita all'altra e allora oggi potrà dovrà essere un'altra storia l'importante sarà trovare punti e concretezza da Johnson e Giuri quasi assenti nel confronto dell'altro ieri e replicare quella difesa aggressiva che in gara 1 gara 2 aveva permesso di arginare il duo stelle strisce against Thomas l'avversaria di quelle che non fa sconti e poggia la sua forza oltre che sui due americani anche su un solido gruppo di italiani ma l'Old Wild West ci tiene come a tornare a casa senza dover giocare la bella decisiva speriamo davvero si possa chiudere qui la serie con il successo alle 18 la palla a 2 tra Scafati e Old Wild West ma adesso parliamo di calcio parliamo di Udinese ormai Gotti dopo aver firmato il contratto che lo lega all'Udinese anche per la prossima stagione pensa a come costruire la squadra in base a quelli che saranno naturalmente i calciatori che gli verranno messi a disposizione il servizio il primo mattone è stato posato ora si può pensare al resto l'Udinese riparte dalla certezza del proprio allenatore con Luca Gotti ufficialmente riconfermato la panchina bianconera fino al 30 giugno 2022 la firma è venuta nel tardo pomeriggio di venerdì al termine di due settimane e mezzo di riflessione in cui la società ha valutato attentamente il percorso intrapreso in due stagioni da parte del tecnico Veneto per poi decidere di riporre ancora in lui la propria fiducia alla fine prevalsa la linea della continuità nella programmazione con Gotti che si avvia verso la terza stagione consecutiva in Friuli non accadeva da sei anni che un allenatore rimanesse alla guida dell'Udinese per un campionato intero e bisogna risalire ancora più indietro ovvero ai tempi di Guidolin per rilevare una permanenza ancora più lunga va da sé dunque che Gotti possa portarsi in dote una profonda conoscenza dell'ambiente bianconero dove potrà oltretutto avvalersi di un nucleo di collaboratori altrettanto conosciuto e consolidato non ci saranno infatti stravolgimenti all'interno dello staff tecnico che manterrà intatta la sua ossatura al netto di alcune modifiche integrazioni ecco allora i presupposti da cui può partire la pianificazione della stagione che verrà messo nero su bianco il nome del tecnico il prossimo passo sarà quello della rosa dei giocatori anche il campionato appena concluso non fa eccezione sul fatto che diversi top club italiani ed esteri guardino in casa Udinese per mettere gli occhi sugli elementi di maggior pregio alcuni dei quali potranno partire a condizione di un'offerta congrua e rinunciabile giugno però è e resta il mese delle voci e per i giocatori non impegnati in nazionale restano altre tre settimane circa per ricaricare le pile il primo raduno del gruppo bianconero avverrà nei primi giorni di luglio mentre a non fermarsi saranno i continui contatti tra la dirigenza e riconfermato mister parliamo adesso invece di giovani bianconeri il difensore Nicolò Del Fabbro della primavera è stato premiato da Vortice come uomo spogliatoio dell'anno dopo la votazione dei suoi stessi compagni l'esterno bianconero ha parlato anche della stagione appena conclusa dove la squadra di mister Moras dopo un girone di andata difficile ha cambiato marcia nel ritorno poi purtroppo i playoff sono stati accorciati per le problematiche covid dunque non è stato possibile per l'Udinese partecipare agli spareggi per tentare la scalata al campionato di primavera 1 ma ci potrà senz'altro riprovare con la prossima stagione ma intanto sentiamo Del Fabbro Nicolò Del Fabbro difensore della primavera 2 hai ricevuto questo premio organizzato istituito da Vortice di uomo spogliatoio sei stato eletto direttamente dai tuoi compagni di squadra una bella soddisfazione questo riconoscimento al termine di questa stagione sono contento di essere stato scelto per questo premio dalla squadra fa sempre piacere sempre un premio e niente ci siamo divertiti ed è importantissimo avere il sorriso dentro lo spogliatoio e dopo cercare di portare lo stesso entusiasmo anche all'interno del campo approfittiamo allora per tracciare un bilancio di questa stagione iniziata con un girone di andata non del tutto esaltante conclusa invece con un ottimo girone di ritorno sì io sono dell'idea che nella vita come nel calcio è meglio forse iniziare un po' in maniera negativa e finire in positivo quindi noi abbiamo iniziato una stagione non benissimo però nel fine stagione nel genere di ritorno ci siamo confermati e abbiamo fatto vedere quello che valiamo e questa è una cosa che ci fa onore ha fatto vedere il carattere quello che abbiamo dentro e soprattutto ha dato un messaggio importante alla società che il prossimo anno si può fare benissimo bisogna assolutamente puntare a vincere il campionato e tornare in Primavera 1 perché secondo me è quello il posto dove dobbiamo stare e allora complimenti a Del Fabro e speriamo davvero che il prossimo anno l'Udinese possa lottare per tornare nel massimo campionato della Primavera cioè il Primavera 1 vediamo i programmi di oggi vediamo cosa propone oggi la nostra rete alle 14.45 Euro Focus 2020 con Eleonora Nocent in conduzione oggi l'ospite in collegamento sarà Fulio Colovati alle 16 di nuovo il TG in diretta alle 17 il film We Are No Angels alle 19 ancora il telegiornale e poi alle 20.30 i grandi concerti l'Udinese TV Elton John al Madison Square Garden e poi ancora il TG serale in replica eccola qui la locandina del concerto della rock star inglese Sir Elton John concerto al Madison Square Garden adesso vi lascio alle previsioni del tempo con Trebi Meteo vi ringrazio per averci seguito buon proseguimento di domenica con Udinese TV amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di domenica che guardate sarà una splendida giornata estiva non solo in Fulio di Venezia Giulia in tutta Italia è arrivata finalmente l'estate e ce la terremo per un bel po' semmai il rovescio della medaglia sono le temperature il caldo si farà sentire in maniera sempre più marcata entriamo più nel dettaglio Pordenone e Udine tempo bello cielo sereno poco nuvoloso però appunto temperature che toccheranno anche i 30-31 gradi all'ombra figurate voi al sole eppure di notte difficilmente scendiamo sotto i 20 gradi Gorizia e Trieste situazione del tutta analoga anche qua bel tempo e anche qua temperature ormai estive per sapere nel dettaglio quanto andremo avanti così scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo che giorni non Gmail ho che giorni è non voglio ormai estivi audio